Ciao ragazzi, tutto bene? Oggi ho fatto un piccolo video sul ristorante che siamo andati ieri a Milano che è in Monza, Milano e si chiama La Fabbrica del Sapore e abbiamo pagato ogni persona ha pagato 24,80 perché è la cena e il pranzo costa di meno e Tiago ha pagato 3 euro perché Tiago è piccolino ancora allora è lo stesso ha pagato e abbiamo preso una birra, un'acqua e una coca e il totale è stato 87,40 non lo so se riesci a vedere così e mi è piaciuto molto e per questo ho voluto condividere con voi ok? Io aspetto che vi piaccia e andiamo ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.